Utilizza ogni momento che hai per fuggire dello stress. Lo stress è una bruttissima bestia, subdola. Lo stress è quello che ti impedisce di dormire bene, è quello che aumenta i livelli di cortisolo, questo ormone immunosoppressivo, e quindi apre la strada a tutte le patologie, dai virus a quelle più peggiori ancora. Quindi lo stress è una cosa veramente atroce, di cui dobbiamo fuggire. Ed ecco che rifugiarsi, almeno avere qualche momento, appena puoi, fuggire in montagna, la montagna con la sua aria terza, con i suoi profumi, è veramente il luogo ideale per fuggire dello stress. Questa pace meravigliosa, cercarlo questo, capire quanto è dannoso lo stress che crea infiammazione. Vi ricordo tra l'altro che noi invecchiamo infiammandoci, e quindi utilizziamo il momento di riposo, la giornata, la vacanza, per correre in montagna. Da un lato il mare è importante perché è uno stimolo, il mare accelera il metabolismo, stimola la tiroide e ti prepara alla battaglia. Invece la montagna ti rilassa, c'è questa proprio dualità tra il mare e la montagna. Nel momento in cui vuoi fermarti, lasciarti, avere il momento, diremmo, di riposo, il momento in cui subentri la melatonina, invece della finta tiroidea, è il momento di rigenerare le tue cellule, i tuoi tessuti, è il momento di venire in montagna. E quindi è importantissimo ricordarsi questo discorso, non essere sempre avviluppati dallo stress, ricordarsi questo discorso e approfittare di quest'estate che ancora sarà lunga, perché il riscaldamento del pianeta non è tutto negativo, ma è quello che determina anche l'allungarsi dell'estate. Abbiamo di fronte ancora settembre, ottobre, sono ancora dei mesi utilissimi per trovare un momento per rifugiarsi nella natura e per fuggire dello stress, per ridurre la nostra infiammazione, per aumentare gli ormoni buoni e per diminuire quel cortisolo, quell'adrenalina, che sono la fonte dell'ipertensione, dell'insonnia, tantissime problematiche del nostro tempo. Iscriviti alla Masterclass per entrare in un percorso di no stress, un percorso di guarigione, un percorso di consapevolezza, un percorso di amicizia, di unione, noi ci troviamo sempre spessissimo nel parco didattico e in questa comunanza, in questa amicizia, in questi incontri bellissimi, noi distruggiamo lo stress e siamo rigenerati dopo queste domeniche per partire per una settimana di lavoro, di impegno, nella gioia e nella realizzazione. Fammi sapere se questo video ti piace, commenta, io sarò felice di leggere i tuoi commenti e di rispondere. Arrivederci al prossimo video.